Sono le 11 e un quarto 11 e un quarto però da qua adesso siamo qua sotto andare là in pineta dobbiamo ritornare di là e risalire ancora dalle radici e dai tre baselli ancora un'altra volta ormai sono tornati qua va bene che volevi parcheggiare però te taci che hai giocato il jolly dai che gioco il jolly anche con questo dai gioco il jolly dai che se gliela rompi se gliela rompo la pago si è appena spianata tutta eh c'era una righina larga così ma va si ma dove siete andati cioè noi siamo stati qua a aspettarvi dieci ho detto ma figa dopo siamo tornati indietro ancora mi hanno rifatto tutto da capo i tre baselli e poi t'abbè il giamato non so come potete spianare gioco no Jacopo è là Jacopo è là ma non ho capito perché non viene in qua perché ti aspettano la bambina guarda guarda che c'è spianare il ragazzino il severino che è no guarda la seconda è corta questa è corta via 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 apri tutto e ciao apri tutto ma dove cazzo e marcia sei prima ma dove cazzo siete andati noi eravamo qua a aspettarvi ma che cazzo hai aspettato diglielo al viti e diglielo al viti diglielo al viti alla fine siamo tornati indietro siamo arrivati ancora fino alla villa abbiamo fatto il giro delle castagne questi qua stavano andando su dal posto dove non si può andare su più e chi è andato giù di perché sei andato giù di giù loro l'ho portato giù poi si fa la strada siamo andati il tre basei tu dove sei andato anziché spianare Jacopo ha cannato ascoltare eravamo noi due Jacopo è andato su di perché è davanti io li ho fermati tutti dov'è Jacopo? io li ho fermati Jacopo dovrebbe essere lì a a paggio bolla bolla che la tengo io la mia moto non ti preoccupare che fai fatica a tenerla fai fatica a tenerla tua a te ma faccio molta tu non c'eri prima domandagli a lui bastardi e tu lì già davanti stai dietro dai andiamo via scordiamoci da qua ma se sono riuscito a far cadere anche la signora in bicicletta ma per forza se sei strut che arrivo mi fermo mi guarda fa che che stronzo che è è questo che rideva come un matto che stronzo che è è questo che rideva gli dico Shura sono appena caduto anche due volte mica è un problema tanto c'è sui calzoni se avevi la gonna ancora ancora ma così e scolta giaccherà lì non mi ricordi ragazzi